Noi facciamo politica perché riteniamo che la politica sia la forma più alta di altruismo laddove le azioni che caratterizzano la politica sono legate alla capacità di diffondere benessere per tutti e non abbandaggiare il singolo per danneggiare una comunità. Questo è il senso profondo che noi diamo alla presenza di Fratelli Italia e alla nostra presenza in politica. Questa campagna elettorale congiunta sia molto congiunta nella misura in cui l'Italia cambierà l'Europa e l'Europa cambierà Avellino perché non sfuggirà a nessuno che questa città non ha avuto un euro di programmazione comunitaria. Uno dei motivi per i quali noi non abbiamo mai abbassato la testa è perché abbiamo sempre teso a masticella più alta e è arrivato il momento di alzare il livello della qualità di questa amministrazione, di questa classe dirigente e della classe dirigente di questa provincia. E la sfida è cercare di creare le condizioni per diffondere il benessere al nostro territorio. Siamo impegnati in Europa anche per questo, per dare voce a questo territorio e Fratelli Italia con la meccanitatura ha inteso dare un segnale forte a questo territorio, ha inteso investire tanto in questa classe dirigente. Dobbiamo essere orgogliosi di questo, questa neonata classe dirigente, capitanata da chi ha tante esperienze e da chi ha un po' di militanza come me, sicuramente si farà valere e dimostrerà di essere all'altezza perché noi abbiamo la capacità di programmazione, abbiamo la visione.